Il 2 novembre prossimo su Real Time verranno trasmessi i casting di Amici 15. TV sorriso e canzoni ha intervistato Stefano De Martino e Marcello Sacchetta, che quest'anno si occuperanno proprio dei provini della trasmissione di Maria De Filippi e aiuteranno i ragazzi a gestire al meglio ansie e paure di un provino così importante. Il marito di Belen, Rodriguez, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio grazie ad Amici, mentre il collega ballerino può vantare collaborazioni internazionali con artisti come Justin Lider e il Take Death. Siamo come dei fratelli maggiori, conosciamo molto bene come funziona il programma, così i ragazzi ci danno fiducia, ha dichiarato De Martino al settimanale, elargendo poi anche preziosissimi consigli per chi è alle prime armi. Il loro obiettivo, dice, deve essere uno, emozionare il pubblico, devono essere convincenti, ha aggiunto, sapersi adattare ad ogni situazione ed essere se stessi. Il bel ballerino però vuole cercare di sfruttare al massimo questa occasione per migliorare e crescere in vista, chissà di un futuro non troppo lontano nella conduzione. Mi piacerebbe continuare sulla strada della conduzione, ha infatti confessato lo stesso Stefano, spero di poter realizzare questo mio desiderio.